Comunque, dovrebbe registrarsi il scrittore che sta registrando Le luci chissà se le mettevo così E soprattutto chissà se sono ancora capace di parlare da un videocamera Bonjour Wanderinos, sono finalmente tornata Ciao a tutti, come state? Come state? Abbraccioni immaginari per tutti, mi siete mancati un sacco Sono appena tornata da sei mesi in Francia Letteralmente appena tornata c'è ancora la valigia qui per terra E restare lì fino a quando non mi avrà voglia di svuotarla Per chi di voi non sapesse perché sono partita, eccovi qua il vlog Sono partita per andare a lavorare a Disneyland Ed è stata, credo, l'esperienza più bella della mia vita Non vedo l'ora di fare un altro video in cui ve ne parlo Insomma vi spiego come ho fatto a riuscire ad andare a lavorare là Cosa è successo in questi mesi Come si lavora là, come l'ambiente, tutto quanto E per quelli di voi che se lo stessero chiedendo Sì, ero in provincia di Parigi E sì, ero là quando sono venuti gli attentati Quindi attivino di ansia, insomma Gli attentati sono avvenuti qualcosa tipo tre giorni prima del mio treno per tornare a casa Quindi avevo davvero paura di non riuscire a rientrare in casa mia Perché avevo paura che chiedessero le frontiere Ma per fortuna non è successo E quindi sono qui E quindi cos'è successo però in questi sei mesi? Purtroppo non avevo internet O meglio, avevo internet Ma diciamo che la connessione faceva davvero... Infatti l'unica cosa che riuscivo a fare Erano scrivere tramite Whatsapp ai miei amici E riuscire a pubblicare qualche foto su Instagram Tra l'altro seguitemi perché Instagram cerco comunque sempre di pubblicare Almeno quando riesco qualcosa Purtroppo gli altri social invece non sono assolutamente riuscita a seguirli Facebook non si apriva praticamente proprio E non parliamo neanche di YouTube Anche se avessi trovato il tempo per girare qualche video E già era difficile perché lavoravo 5 giorni a settimana Non avrei saputo uno come montarlo Perché dietro mi sono portata il portatile e il MacBook E non ho ancora imparato bene ad usare i movie E seconda cosa Non avrei potuto caricarlo su internet Perché appunto il segnale da noi era debolissimo Faceva schifo Quindi adesso sono qui per circa tre settimane E cercherò di riempirvi con tutti i video che non sono riuscita a pubblicarvi in questi sei mesi Quindi non stupitevi se magari in tanti video ho ancora i capelli azzurri Il fatto è che li avevo filmati prima di partire Con tutte le più buone intenzioni di editarli lungo il viaggio E di metterli su YouTube mentre ero là Solo che poi appunto tra il lavoro, tra internet assente non ho potuto farlo Però mi sembra davvero brutto buttarli via Visto che comunque alcuni sono dei make up tutorial Quindi sono validi ancora adesso insomma Quindi vedrete qualche video con me con ancora i capelli azzurri E sappiate che questa cosa mi ferisce tantissimo Perché i miei capelli mi mancano da morire Questo colore mi fa proprio schifo E sono felicissima perché mentre ero via Comunque le aziende hanno continuato a mandarmi dei pacchi Quindi quando sono arrivata qua è stato un po' come se fosse Natale Avevo tutte le scatoline da aprire, le buste Quindi ci saranno anche spero dei lookbook Insomma spero di riuscire davvero a filmare qualche video in queste due settimane Ma soprattutto spero questa volta quando tornerò là Perché torno anche per il contratto di Natale Però l'ho fatto l'estate, Halloween e adesso faccio il contratto di Natale Spero di avere internet dove sarò In questa maniera anche se qualcosa lo filmerò qua Magari potrò editarlo là e pubblicarvelo là Insomma sarà tutto l'incognita Quindi niente questo era stato un brevissimo video per dirvi che sono tornata E davvero mi è mancato un sacco fare youtube Mi è mancato proprio un sacco E voi mi siete mancati tantissimo Quindi un baciare E oggi ho un video pronto che uscirà più tardi Ciao ciao Ciao